Che su Instagram si pubblicano tantissime fotografie è un dato di fatto, è chiaro che il social network fotografico si è diventato nel tempo uno dei social network più utilizzati al mondo e i record di utenza sono veramente altissimi. Spesso però capita che su Instagram si riesca a pubblicare delle bellissime foto a fotografie che però vengono perse nel tempo e magari vengono anche eliminate da dispositivi che possono anche essere sostituiti perché un account di Instagram dura nel tempo mentre magari i telefoni vengono sostituiti. Ecco perché oggi veniamo noi ad aiutarvi, con questo video vi farò vedere come salvare le vostre immagini che avete già pubblicato nel vostro account di Instagram. Lo faremo con un'applicazione del tutto gratuita, lo faremo su iPhone, un'applicazione che però dà inizialmente la possibilità di scaricare 50 immagini ma che poi per scaricare altre fotografie richiede degli acquisti in app. Con questa applicazione è possibile salvare tutte le immagini che avete pubblicato su Instagram sin dall'apertura del vostro profilo. Nel caso in cui non vogliate utilizzare un'applicazione del genere potete sicuramente farlo sfogliando le immagini dal vostro browser, cioè dal vostro computer e salvandole non perlottamente un tasto destro ma effettuando lo screenshot della zona perché i curi di Instagram le proteggono e in effetti ne eliminano la possibilità di salvataggio nel computer. Io sono Dara Caliendo e appuntamento al prossimo video di TechFanPage. Nello specifico per salvare le foto di Facebook utilizzeremo un'applicazione che si chiama IG Saver che come vi anticipavo è scaricabile gratuitamente dall'App Store. Una volta scaricata e installata l'applicazione non bisognerà fare altro che inserire i propri dati di login e darne l'autorizzazione ad accedere alle fotografie salvate nel proprio account e fatto ciò si potrà quindi accedere al proprio profilo e quindi a tutte le fotografie che sono state pubblicate nel tempo. Per salvare le immagini non bisognerà fare altro che selezionare quindi l'immagine che si vuole salvare e selezionare proprio il tasto relativo al salvataggio. A questo punto l'immagine però verrà salvata nel database interno dell'applicazione, database interno che è possibile accedere dal menu dell'applicazione selezionando l'icona posta in basso a destra. Una volta selezionata questa icona è avuto accesso quindi tutto l'elenco delle fotografie salvate, non bisognerà fare altro che selezionare una fotografia che si vuole salvare nell'orino fotografico e scegliere proprio l'icona che si utilizza per condividere anche l'immagine e successivamente quindi scegliere l'icona per il salvataggio. Grazie